Lo sportello del cittadino è a Marina di Lizzano, provincia di Taranto. Partiamo qui dalla contrada Bagnara per farvi vedere lo stato di degrado, di sporcizia, di schifezza, passatemi l'espressione, in cui si trovano gli arenili e in cui si trovano ovviamente le strade percorrendo le quali appunto si accede al mare. Una bellissima località turistica, una meta turistica di pregio, violentata, passatemi questa espressione, dalla sporcizia e dall'incuria. C'è certamente l'inciviltà di chi abbandona i rifiuti, ma l'amministrazione comunale, la sindaca Doria e il vice sindaco Morelli cosa fanno per impedire questo stato di degrado assoluto? Già lo scorso anno venni qui e feci una bella tirata di orecchie a sindaco e vice sindaco, nulla. Intanto oggi è lunedì, per la precisione lunedì 13 e vedete sono le 9 meno un quarto del mattino ed evidentemente i mezzi deputati a rimuovere i rifiuti non sono ancora arrivati. La gente va a mare e trova la sporcizia. Ma guardate, guardate che scempio, guardate che schifo. E questo, guardate, vi stiamo facendo vedere il tratto appunto lungo la strada. Ci spostiamo di pochi metri e guardate cumuli e cumuli di rifiuti. Andiamoli a vedere. Morelli, vice sindaco Morelli, tu che quando eri all'opposizione ti divertivi con le immagini, guarda lo schifo Morelli. Morelli, sindaco, rimuovete questa merda perché di merda si tratta. Guardate, guardate. I lizzanessi meritano ben altro, non meritano questa schifezza. E poi, scusate, caro sindaco e caro vice sindaco, ma il Padre Eterno non vi ha illuminato, non vi ha dato l'idea di mettere dei cassonetti? Perché scusatemi, la gente quando ha la busta che ha portato qualcosa a mangiare, dove deve conferire i rifiuti se non ha dei cassonetti? Come fa? Se la porta a casa? Si prende il sacco dell'immondizio e se lo porta a casa? Se lo mette nella macchina o se lo mette sulla moto? Piuttosto mettete dei cassonetti. Nulla. Ma guardate, è uno schifo. Guardate il mare lì, la meraviglia e guardate questo scempio. Questa è l'immagine di come viene amministrata male Lizzano. Ecco l'immagine. E non venitemi a dire che sto offendendo i lizzanesi, perché io sto difendendo i lizzanesi. Perché questa è una situazione di merda. Merda e merda. Non ci sono altre definizioni. In presa diretta ci ha raggiunto un cittadino, lei abita da queste parti, suppongo. Ma stiamo scherzando? Cioè, vivere in questo stato di degrado assoluto? Il problema è che più tardi poi, qui arriveranno anche i cani, che romperanno le buste e faranno scempio praticamente. E si spargerà lì vicino al palo, in mezzo alla strada anche. E la roba che sta dentro, questo succede insomma. Non è una cosa bella questa qui. Sì, trascorrere l'estate in queste condizioni. Bisogna intervenire in qualche modo. Almeno mettere dei cassonetti. Almeno. Neanche quello. Qui arrivano i cani, gli animali. I cassonetti sarebbero la soluzione. Perché quando c'erano i cassonetti si riempivano, d'accordo, però le buste erano dentro i cassonetti e quindi erano al riparo. La ringrazio. Noi lo stiamo facendo per difendere chi abita qui. E chi viene a fare un bagno e si trova nello schifo. Guardate, anche qui lungo le villette, anche qui rifiuti e immondizia buste di plastica che giacciono da giorni, giorni e giorni. Oramai sono dimenticati. Quando il sindaco Doria e il vice sindaco Morelli dicono di voler tutelare il territorio, di volerlo promuoverlo, guardate che immagine. Da un lato spiagge libere comune di Lizzano, dall'altro, proprio qui sotto, l'immondizia, i sacchetti dell'immondizia. Ma proseguiamo il nostro tour. Guardate queste buste. Da giorni e giorni e giorni stanno qui. Sono state completamente dimenticate. Magari tra 15 giorni torniamo, memorizzate l'immagine e li ritroveremo qui. Ma è possibile una situazione del genere? Guardate lì, addirittura una discarica, materiale di risulta. Allora, chiariamo. Noi dobbiamo condannare l'inciviltà del cittadino, ci mancherebbe. Ma, viva Dio, uno, vanno messi dei cassonetti, due, i rifiuti vanno rimossi. Mica possono rimanere qui tutta l'estate. E anche qui sarà qualcosa in gomma, una specie di materasso. Guardate, abbandonato, chissà da quanti mesi sta. Guardate, basta toccare, guardate. Guardate, Messi che sta qui, Messi. Bottiglie. Così volete fare turismo? Siamo scesi sulla spiaggia, guardate che bello spettacolo. Davvero, il mare è un dono di Dio che Taranto ha ricevuto da madre natura, Taranto Lizzano. E però, purtroppo, guardate qui, guardate qui cosa c'è. Nulla, non viene rimosso nulla. Stamattina, caro sindaco e caro vicesindaco, dovevano già stare i mezzi di pulizia per rimuovere i rifiuti. Nulla. E guardate qui come sta tutta la spiaggia. Guardate, carte, rifiuti di ogni genere. Guardate, basta così fare due passi e notare cartacce, buste e quant'altro. Penso che i cittadini siano esasperati. È vero? Cioè, si può vivere in queste condizioni? Per l'amore di Dio, per l'amore di Dio, fanno schifo. Schifo. Una sporcizia mai vista. Ieri mi sono bifisciato parecchie, uno con l'ombrellone dà anche le botte, pietre. Come, giustamente, chiedo schifo. Prendete le camera quelle. Dovrebbero pulire, dovrebbero pulire le spiagge la sera, la mattina, presto, no? Proprio quello, ho detto, la mattina, prima ancora che, già alle sette? Perché non fanno venire le guardie qua, quando stanno accanto a dormire? Fanno venire le guardie. No, ma qua bisogna venire la mattina presto e farle pulire. Hanno messo pure quel masso lì in mezzo, che dà fastidio, però non lo so. Capita a qualche anziana che non ci stebbata. Ieri la gente, uno sopra l'altro, mi misse la mascherina e non si poteva stare qua. Le regole sul distanziamento non vengono rispettate. Gli assembramenti. In modo di Dio, uno sopra l'altro, anche, e ti mandavano a quel paese, ti mandavano. Perché manca il controllo. Manca il controllo e la gente zozza, e zozza, porche! Ecco, guardate, intorno, vicino alla staccionata, ecco, proprio lì, altra sporcizia. La strada, quando la giustano, per forza dobbiamo cadere. È proprio pericoloso. Noi lo stiamo dicendo, ma il sindaco, il vice sindaco, sembrano non ascoltare quello che noi diciamo. No, ma quella strada la devono aggiustare. Non è possibile. Mo' se ne va tutta la stagione. Non è possibile che deve stare così. È pericoloso proprio. Come detto, vi dicevo la staccionata e vedete cosa c'è qui vicino. Guardate, qui sarà qualcosa di plastica, non so, abbandonato. Così abbandonato che addirittura sono cresciuti i muschi. Il muschio, l'erbaccia è cresciuta su questa, così, non so cosa sia, un qualcosa di plastica abbandonato. Evidentemente abbandonato da mesi e mesi a tal punto che la vegetazione, appunto, si è sviluppata su questi rifiuti. Per disinfettare un po' la zona, perché ci mangiano proprio tutte le brutte verme, non si può stare per la sporcizia, disinfettare. Nulla, nulla, non accade. Noi siamo venuti qui alle otto e mezzo del mattino, doveva già essere pulito tutto, invece è uno schifo. Quindi le mie parole sono sacre, no? La verità. Non si può stare in questa posizione proprio che dobbiamo aspettare prima, che ci dobbiamo ammalare, non basta quello che stiamo passando. Penso che basta, grazie. Vedete, i cittadini sono esasperati. Qualcuno può pensare che io strumentalmente voglio attaccare l'amministrazione. A me non interessa nulla. A me interessa che la voce del cittadino sia rispettata e che ci siano condizioni di civiltà, degne di una realtà civile. Ma qui siamo nel degrado più assoluto. Sono spese che si sopportano. Io devo andare a spendere l'ira di Dio, nonostante le tasse che paghiamo e tutto il resto. Devo andare a comprare tutta questa roba per disinfettare un po', per respirare un po' di aria pura. Eppure pagate le tasse. Certamente. E la vita è cara già. E mo' devo andare a comprare tutta questa roba per disinfettare. Non è giusto. Vedete, ci sono tante persone, anziani, che cercano di prendere un po' d'aria, di stare all'aria aperta, di farsi un bel bagno e rischiano di contrarre malattie. Perché ovviamente nel momento in cui c'è la sporcizia, questa sporcizia, questi cumuli di rifiuti non rimossi, purtroppo possono generare delle infezioni. Non lo dico io, è la logica che lo dice. E il sindaco, che è un medico, è un pediatra, dovrebbe capire, dovrebbe sapere bene che questa situazione di degrado, questa sporcizia, può ingenerare infezioni. Lo dico io che non sono un medico e non faccio parte del personale medico-sanitario e a maggior ragione lo dovrebbe sapere lei. Mi dicevano che soprattutto nei weekend è un problema. Certo, c'è confusione. E non c'è controllo. Gli assembramenti. E certo, ci dovrebbe essere un po' di controllo in più. L'attività di rimozione dei rifiuti di bonifica non avviene e molti cittadini di buona volontà si vedono costretti loro stessi a ripulire la zona. È il caso di questo signore. Ieri era domenica. Madonna, è un decoro. Da Barodone, è un decoro. È un decoro. È un'altra sindacchessa che mandasse qualcuno a verificare. Mentre che stanno a dormire lì dentro. Alcune persone ci facevano notare come questi sacchetti molte volte si ritrovano aperti perché magari sono gli animali a mordere gli stessi sacchetti. O qualcuno magari così li apre per trovare chissà che cosa. Guardate che scempio. Guardate che potenziale veicolo di infezioni. Ma siccome io ho l'occhio clinico, guardate un po'. Qui c'è una bella salita o discesa dei gradini per arrivare a mare. Guardate un po' che salto di quota che c'è. Guardate hanno messo due tuffi per risolvere il problema ma penso che un anziano, soprattutto un disabile, una mamma con un carrozzino non possa certamente mettersi qui a correre dei rischi. Sindaco Doria, lei è un medico e dovrebbe sapere i rischi che corre un anziano, che corre una donna incinta a tentare queste operazioni così di arrampicarsi in maniera rischiosa per guadagnare l'accesso al mare. Questo è l'angolo che con rabbia da molti abitanti della zona è stato ribattezzato come l'angolo della sporcizia, l'angolo dell'immondizia e come poter dare torto loro. Guardate, oramai è incancrenita la situazione. Certamente dobbiamo condannare l'inciviltà di chi abbandona i rifiuti. Certamente, ma bisogna anche condannare l'amministrazione comunale che non è in grado di far rimuovere questi rifiuti. È già un anno che denunciamo questa situazione e poi, ma io dico, l'ho già detto prima, ma questi cassonetti, mettere dei cassonetti per raccogliere i rifiuti, questi sacconi di immondizia. È così difficile, sindaco, è così difficile, vice sindaco. Vice sindaco Morelli, lì era molto bravo, l'ho detto anche prima perché mi sto ripetendo, perché repetita Juvent, le cose ripetute fanno bene. Era bravo a immortalare con fotografie su Facebook, il degrado. Eh, caro mio, ora tocca a te. Non ci sono sconti per nessuno. Ci stiamo facendo un giro in macchina, appunto, su tutta la litoranea e quindi immortaleremo le varie immagini di degrado. Non ci sono solo sacchetti dell'immondizia, ma, vedete, ci sono anche delle sedie sdraio, evidentemente vecchie, perché i cittadini purtroppo non sanno dove conferire i rifiuti e vengono abbandonati così, guardate, né tantomeno vengono rimossi. Quindi non è come dice il vice sindaco che si tratta soltanto... Abbiamo lasciato il litorale e ci siamo così messi sulla strada che porta a Lizzano. Guardate qui che scempio, penso che le immagini siano eloquenti più di ogni parola. Davvero incredibile questa quantità enorme, immonda, di rifiuti. E non ci sono parole. Lo ripeto, ho voluto fare questo servizio nell'interesse di Lizzano, dei lizzanesi. Quindi non è un qualcosa che, come potrebbero dire il sindaco, potrebbero dire il sindaco, il vice sindaco, reca danno all'immagine di Lizzano. No, 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 reca un vantaggio, perché, cari signori amministratori, non si mette la polvere sotto il tappeto. Io la polvere la metto fuori e faccio vedere la schifezza che sta, perché solo quando avremo rimosso la schifezza potremo parlare di sviluppo turistico. Ci congediamo con questa bellissima immagine, questo mare, questo vento che bacia le onde, questi meravigliosi scogli. E dico solo una cosa, che la comunità lizzanese merita tanto, 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 in termini di servizi, in termini di riqualificazione del territorio, in termini appunto di servizi pubblici essenziali. Qual è la pulizia? Lizzano merita altri amministratori. Speriamo che la stagione politica di Morelli e del sindaco Doria finisca quanto prima. Speriamo che la stagione politica di Morelli e del sindaco Doria finisca.